Che le strade della Udacia Cerignola e di Michele Pazienza si dovessero dividere era nell'area. Già due settimane fa il direttore sportivo Elio Di Toro, in un'intervista a Telesbiva, l'aveva confermato. Poi, una settimana più tardi, il comunicato della Udacia Cerignola, che sanciva l'addio di Michele Pazienza dal sodalizio giallo-blu, non dimenticando quello che aveva fatto per la squadra e per la città, portare, dopo 85 anni, la società ovantina nel calcio professionistico. Conclusosi con un ottimo quinto posto e aver fatto i play-off persi poi contro il Foggia. Michele Pazienza, in un'intervista concessa a Telesbiva poche ore fa, dice la sua verità sul divorzio dalla società giallo-blu, non mancando anche di testimoniare l'immenso affetto della città, della tiposeria e dei giocatori. Mi sono sentito da questo perché ti confermo che la proprietà della società mi ha proposto comunque di continuare quel percorso iniziato tre anni fa insieme al direttore di oro, per ulteriori tre anni. Però per gli stessi motivi per cui ora ho fatto questi ringraziamenti non mi sono sentito di accettare e di continuare, perché dentro di me ho la sensazione che non riesco a dare quanto dato fino ad ora, quanto dato in questi tre anni. E' il modo migliore per portare rispetto a chi oggi mi ha portato, mi ha risollevato e mi ha dato la possibilità di indirizzarmi verso un percorso da allenatore. Credo che la cosa più giusta e doverosa da parte mia era sentire quello che ho dentro e dirglielo in una maniera chiara, diretta, sincera, così come sono sempre stato con loro, con tutti, con la piazza. E quindi credo che la cosa più giusta da fare era quella di fermarsi oggi, che è la possibilità, secondo me, migliore. Dopo tre anni e dopo un legame comunque instaurato con una città, con una tifoseria, con la proprietà che io porterò per sempre con me.